Il gruppo Piaggio quest'anno presenta tre grandi novità, la Vespa 946, Motoguzzi California e Aprilia Caponord. Tre nomi mitici per ognuno di questi marchi, la California il ritorno di un classico e la Caponord una enduro sportiva che attinge la sua tecnologia direttamente dal mondo delle corse. La presentiamo con grande soddisfazione e grande orgoglio perché 946 nasce per rendere omaggio alla capostipite di questa fantastica dinastia che è stata quella delle Vespa e che ha percorso le strade di tutto il mondo. Come ogni Vespa che si rispetti ha una mano scocca in acciaio, questa volta impreziosita da alimenti di alluminio, non solo per la leggerezza ma anche per le caratteristiche tecniche del materiale che permettono di realizzare delle forme così ardite. Delle forme così ardite hanno richiesto altre soluzioni tecnologiche estreme, quindi estrema nelle forme ma anche nella tecnica come il monomortizzatore posteriore o altre parti del veicolo. Equipaggiata con un motore a iniezione tre valvole, dalle caratteristiche notevoli perché coniuga performance ma grande economia ad uso, quindi bassissimi consumi, bassissime emissioni. Naturalmente non si dimentica la sicurezza con l'ABS. Un anno fa era un prototipo, esattamente un anno fa stavamo presentando un concept, un esercizio di stile e un anno dopo abbiamo la versione definitiva. Sarà nelle concessionarie a primavera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS 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 di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS di QTSS.